E' la settimana della salute, qui su Euronews, 5 giorni di reportage e articoli che esplorano il futuro della sanità. In questo servizio ci concentriamo sull'Europa. Come vede l'Unione Europea l'evoluzione dell'assistenza sanitaria? E' mio ospite il Commissario Europeo alla Salute, Stella Chiriacidis. Grazie per aver accettato l'invito. La Commissione Europea e il Parlamento stanno entrambi sostenendo un nuovo pacchetto di finanziamenti da 5,1 miliardi di euro chiamato EU4Health, visto come la risposta a lungo termine al Covid. Quali sono le vostre priorità? Grazie per l'opportunità. Abbiamo visto che i cittadini dell'Unione vogliono più Europa nel settore della salute ed è per questo che abbiamo presentato l'ambizioso programma EU4Health da 5,1 miliardi di euro. Mira a sostenere la costruzione e la resilienza dei sistemi sanitari rafforzando il mandato dell'ECDC e dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, e concentrandosi anche su settori come il Piano Europeo per battere il cancro e la nuova strategia farmaceutica. EU4Health ripone molta fiducia nella tecnologia, ci chiede di condividere i dati oltre i confini, di usare sistemi digitali nel campo della salute, e di fidarci di questi sistemi. Come si fa a garantire che lo faremo e che li useremo nel modo giusto? Creare uno spazio europeo dei dati sanitari è sempre stata una priorità per questa Commissione. Si tratta di utilizzare i dati sanitari in modo sicuro, di proteggere i dati sanitari, per essere in grado di aumentare l'accesso ai servizi sanitari, alla cura dei pazienti e ottimizzare l'uso dei dati nel settore della salute. Il potenziale per questo, per l'uso dell'intelligenza artificiale, è enorme. Ho parlato con tre eurodeputati che sono stati i relatori o relatori ombra del programma EU4Health per avere la loro visione della strategia sanitaria europea. Iniziamo dall'eurodeputata portoghese Sara Cerdas, a secondo la quale la salute fa ormai parte di ogni decisione politica. Vedremo in ogni atto legislativo quali sono le conseguenze dirette e indirette sulla salute delle popolazioni e questo è della massima importanza perché con questo approccio ridurremo le disuguaglianze in tutta l'Unione Europea, in campo sanitario. La creazione di uno spazio digitale sicuro per condividere i dati sanitari è parte fondamentale del progetto europeo. La deputata francese, Veronique Triéle Noir, ci spiega perché. I dati medici, i dati scientifici devono poter essere compilati sotto forma di big data, analizzati dall'intelligenza artificiale per permettere a tutti di beneficiare dei progressi della medicina più adatti, meglio personalizzati. Funziona così anche nel trattamento dei tumori. Uno degli obiettivi è quello di utilizzare la tecnologia per ridurre le disuguaglianze, secondo il deputato romeno Cristian Silvio Busoi. Qualcuno che si trova in una zona rurale e ha una malattia molto dura o speciale potrebbe essere consultato da un professore di un grande ospedale universitario con una teleconsultazione. Si potrebbero anche fare interventi con l'aiuto della telemedicina perché, come ho detto, l'intelligenza artificiale e la 5G cambieranno molto il funzionamento della medicina nel futuro. Potete trovare più informazioni sulle ultime tendenze nel campo della sanità su euronews.com Partecipate alla Settimana della Salute attraverso i nostri social media. Via our social media channels. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.